1992, alla fine della terza crociata, Riccardo iniziò il viaggio di ritorno in occidente e fu scelto un gruppo di templari per accompagnarlo nel pericoloso viaggio di ritorno. Forse vestito proprio da crociato, venne catturato nei press di Vienna, da Leopoldo da Austria, per essere poi venduto all'imperatore Enrico VI e rilasciato solo nel febbraio del 1194. Nello stesso anno, il re Riccardo I d'Inghilterra, scortato da un manipolo di cavalieri templari, finalmente fa ritorno a casa. Ma... Nello stesso anno, il ritorno a casa. 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 bene e vi lascia solo il necessario per sopravvivere. Riccardo Guardi Leone sì che era un beguono, non avido come Giovanni Senzaterra. Dimenticatelo Riccardo Guardi Leone, le notizie che giungono a noi lo danno morto in terra santa. Questo lo dite voi, nel nostro cuore noi ci speriamo sempre. È inutile sperare, lui è morto, ma nel dubbio torneremo di tanto in tanto in questo villaggio per verificare. E il prossimo a morire sarà il capo di quella banda che si nasconde nella foresta, come un codardo insieme a un gruppo di disperati. No, lui non è un codardo, lui è un uomo vero. Taci donna, hai parlato troppo per i miei gusti e ricordati che sei sposa del mio fedele Gisborne. No, io quell'uomo è orribile, non lo voglio sposare. E invece lo sposerai, così ha deciso Giovanni e tornate a lavorare, che domani torno a ritirare i tributi. tempi duri nella contea di Nottingham. Re Giovanni senza terra, dopo aver usurpato il trono a Riccardo Pordileone, impegnato in terra santa con le crociate, con il suo stretto collaboratore, lo serifo barone George, ha imposto al popolo della contea di Nottingham le stazioni di Onitica, riducendo il popolo alla fame con tasse e tributi esorbitanti. Solo alcuni uomini della contea si sono ribellati e si sono rifugiati nella foresta. E' ancor peggio per la povera lei di Mariam, che è stata promessa sposa a un fedele servitore di Giovanni senza terra, Gisborne, un uomo crudele e privo di sentimenti e dall'aspetto pauroso. Sto tornando, sto tornando! Chi sta tornando? La Riccardo e i Templari, l'ho ricrociata in terra santa! Oh Dio, ci vede Dica! Oh Dio, sto tornando! Zio, sto tornando! E' in fine di Saraca! Applausi! Spar nosaltres, aiuto! Applausi! Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo, marco, domani! Uh! Grazie a tutti. Ho temuto tanto durante la vostra assenza. Le voci che correvano vi davano prigioniero o addirittura morto. Non è stato facile tornare qua con i miei uomini, ma ce l'abbiamo fatta. Ma avrò tempo per raccontarvi tutto. Riccardo, da quando siete partiti per le crociate, qui le cose sono cambiate molto. Giovanni Senzaterra ha usurpato il vostro trono e il suo sceriffo con i suoi armigeri ci hanno ridotto alla fame. Solo dei giovani si sono ribellati e sono fuggiti nella foresta. Maledetto, maledetto! Ma ora, ma ora dovrà fare i conti sul nostro ritorno. Riccardo, ora però dovete essere prudente. È meglio che vi nascondiate perché Giovanni Senzaterra ha giurato sulla vostra morte. E i suoi uomini vengono spesso qui nel villaggio per assicurarsi della vostra assenza. Poi, qui in paese ora, ci sono molte spie. Ho combattuto mille battaglie con i miei uomini e siamo ancora tutti vivi. Io non temo lo usurpatore e io libererò. No, ti cambia, quel tiranno lì lo libererò grazie ai miei uomini! E viva! Cire, permettete di onorare il vero re d'Inghilterra. Certo, ma... Fermi tutti, io lo uccido! Ma l'ho detto traditore! Lascialo! Fermi, fermi tutti! State fermi! Non andrai da nessuna parte, sei solo e i miei uomini ti uccideranno! Chi ti dice che sono solo, eh? E' da tanto tempo che ci aspettavo! Nessuno credeva alla tua morte! Arrestateli tutti! Uomini, uomini! Avete le armi! Fermi, fermi, uomini! Fermi! Fermi! E ponete le armi! Siete tutti condannati a morte! Ma voi, riccanto, sarete il primo a morire davanti al vostro popolo e a vostra moglie! No, non farlo! Lascia! Guardi che cagliere quella donna! C'è l'info! Scanto, ma ti siete scordati di me! Fermi! Lasciala! Fermi! 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 muovetevi fuori, arrendeteli tutti, portateli là, vicino la gogna, alzati, muovetevi, tu dove pensavi andare, muovetevi lo sceriffo è morto, anche mio padre, Lord Oxley, ucciso dal sottoscritto, finalmente potrà avere successo contro Giovanni senza terra e il tuo regno, Re Riccardo, avrà finalmente nel suo splendore Robin Hood, inginocchiati davanti al tuo re, Robin Hood, io ti restituisco il titolo nominale di barone che ti era stato tolto da questo sceriffo nel nome di San Michele, nel nome di Dio, nel nome di San Giorgio, tu d'ora in avanti sarai il barone Robin Hood Grazie, mio re E ora Robin Hood Dopo gli taglieremo la testa E voi potete tranquillamente visionare quando gli taglieremo la testa E ora Robin Hood Con i tuoi uomini Libereremo il regno Da quel tiranno di Giovanni senza terra E lo scommanderemo via per sempre Hai ragione, mio sire Però io, come uomo libero Io ti chiedo una cosa Anch'io adesso voglio convolare a nozze Con una dama Con la mia bella La mia ormai amata da anni Se ti è possibile vorrei che tu mi dessi la grazia per convolare con lei Robin Hood Anche, zettili Anche noi uomini di guerra cediamo facilmente al fascino femminile Vero, Berengarda? E avrai di certo il mio consenso per sposarti Ma credo, credo anche di sapere chi sarà la futura sposa di Robin Hood, vero? Sire Riccardo E lei è la mia bella E anni che sono innamorato di Lady Marian E non potevi dirlo prima E lei, se vorrà, sarà la mia sposa Guarda, Robin Hood Io... Ci devi pensare? Allora ne scelgo un'altra Però io da quando eravamo piccoli che sogno questo momento Io mi ero accorto E quindi è un sì Bene, che questo sì venga sigillato Venga santificato mio re Benissimo E ora, come vuole la nostra santa sede, la nostra santa chiesa Io chiamerei qua il frate Abate per benedire questo matrimonio Bene, mia sposa Io, Abate Busoni In nome della chiesa Mi dichiaro marito e moglie Nessun uomo osi dividere ciò che Dio ha unito Evviva! Grazie mio sire Possiamo festeggiare? Bene, io direi che se è possibile darei inizio ai festeggiamenti Non ho nessuna intenzione a lasciarlo a predare il pranzo Quindi muovetevi tutti a tavola a festeggiare Andiamo, andiamo Andiamo a festeggiare Andiamo a festeggiare Andiamo a festeggiare Sante donne e sante parole Andiamo a mangiare e soprattutto a bere Bravo Frate Stac Andiamo Prego Portateli da dietro E mandiamo il tutto in agogna E mandiamo il tutto in agogna Prego Regino No, prima adesso Regina Prego Regino Grazie Grazie Fu così che nei giorni seguenti Il matrimonio tra Robin Hood e Lady Mariam Nella foresta di Sherwood Pernò la pace e la gioia di vivere in libertà Anche se il pericolo monacciato da Giovanni senza terra Non posso decapitare Che volevo obbligare Larry Mariam a sposarlo Rimase sempre attuale Incombente sul popolo di Nottingham Ma questa signori è un'altra storia Che vi racconteremo alla prossima puntata Grazie Grazie e buona serata a tutti E divano Riccardo E divano Riccardo Sto facendo bene Allora mentre ci sono i festeggiamenti Dobbiamo festeggiare naturalmente il vincitore o i vincitori Delle situazioni per i ragazzi Che stanno venendo in questo momento C'è una strega che ha in mano Fatti insieme non scappate Fatti insieme Fatti insieme